Allora, signor Ammasciatore, Pasquale Ferrara, grazie mille tanto di averci ricevuti. Transport sta completando questo secondo reportage che riguarda lo sviluppo della portualità nordafricana magrebina in un'ottica anche di possibili eventuali connection, collaborazioni con quello che è il mondo dello shipping italiano, ma non solo dello shipping, della logistica e del trasporto a 360 gradi. Le chiederei, per cominciare, signor Ammasciatore, intanto ecco, la sua esperienza che da due anni e mezzo è qui ad Algeria, come il paese sta evolvendo, se sta evolvendo ma credo di sì, che cosa sta cambiando magari anche lentamente e sostanzialmente oggi come oggi che cos'è l'Algeria? Innanzitutto benvenuti in Algeria. L'Algeria oggi è un grande gigante africano, è il più grande dei paesi africani come superficie, ma soprattutto è un paese che consente di connettere diverse aree geopolitiche, il Mediterraneo, il Sahel, l'Africa subsahariana. L'Algeria è un paese anche che ha conquistato a fatica una stabilità politico-istituzionale e di sicurezza che adesso rende possibile anche pensare a una prospettiva di sviluppo economico. L'Algeria è un paese ovviamente esportatore di idrocarburi, ma c'è un programma molto preciso del governo algerino di andare verso una diversificazione dell'economia. Questo significa favorire le joint venture con imprese straniere che intendono stabilirsi qui in Algeria e significa anche un orientamento dell'Algeria più verso l'export che verso l'import. L'Italia è il principale partner commerciale dell'Algeria. Abbiamo avuto anche nel 2018 un interscambio che ha superato ampiamente gli 8 miliardi di dollari e cominciamo ad avere anche una comunità degli affari piuttosto consistente. In questo momento abbiamo 180 imprese che operano nel paese, ovviamente soprattutto nel settore dell'energia, ma non solo, anche nel settore agroalimentare, nel settore delle macchine industriali, delle grandi costruzioni. Quindi è un paese che presenta molte opportunità e diciamo che l'Italia è anche molto ben attrezzata perché uno dei nostri punti di forza è l'exporto di macchine industriali che servono esattamente allo sviluppo di un'industria nazionale in Algeria. Allora cerchiamo magari di focalizzare un pochino di più l'ambito del trasporto, della logistica e segnatamente dello shipping, visto che noi oggi abbiamo cominciato anche a capire quali sono le realtà che si occupano di shipping in relazione a quello che è il porto di Algeri e quello che sarà il nuovo porto di Algeri che abbiamo capito si svilupperà nel giro di un periodo non esageratamente lungo. Tante aziende italiane operano, come ci diceva già lei, in questo ambito. C'è secondo lei comunque la possibilità, come peraltro ci ha già fatto capire, di implementare quello che è questa collaborazione, soprattutto in ambito trasporto, logistica e porte e portualità delle aziende italiane, anche di quelle che ancora oggi non sono magari presenti sul territorio. Io credo che ci sono molte opportunità, innanzitutto anche nel settore delle infrastrutture, delle grandi opere civili in generale, noi siamo molto presenti in Algeria a cominciare dagli anni 80 con grandissime imprese italiane come Condotte per esempio, tra l'altro Condotte è realizzato il porto di Gen Gen che è una località nella parte orientale dell'Algeria, già negli anni 80 e le imprese italiane sono presenti soprattutto per quanto riguarda il trasporto merci. Abbiamo varie imprese che operano in joint venture, in particolare la Cnan Med, abbiamo Tarros, abbiamo Grimaldi, abbiamo Messina e quindi c'è già una consistenza di traffico che lascia ben sperare anche in altri settori, soprattutto il settore passeggeri. I collegamenti con l'Italia purtroppo a livello passeggeri sono limitati a una compagnia algerina, algeri ferri ed è stagionale, collega Schikda con Genova, ma ci sarebbero moltissime potenzialità. Tanto è vero che grandi navi veloci comincerà a titolo sperimentale dal giugno del 2019 un collegamento tra la città di Bejaia con la Francia intanto. Perché la Francia? Perché la Francia ovviamente offre un bacino d'utenza con la fortissima presenza di una collettività algerina nel paese che dà consistenza anche a un traffico di passeggeri. Però è un primo passo per installarsi nel paese in un settore nel quale non siamo ancora presenti. Quindi esiste uno spazio di manovra e di intervento molto ampio. Forse prima off the record parlavamo di questo futuristico progetto che in qualche modo dovrebbe collegare quindi la costa algerina, quindi i porti algerini con l'Africa subsahariana. L'obiettivo da quello che abbiamo capito è quello praticamente di arrivare a Lagos, quindi di attraversare una parte consistente, veramente grande del continente africano. Perché in effetti noi la cosa che abbiamo notato, ma non c'era bisogno che fossimo noi a notarla, insomma, che dal punto di vista invece logistico, infrastrutturale, terrestre, ferroviario soprattutto, gli algerini insomma non possono certo dire di essere forti, nel senso che le navi arrivano, scaricano, siamo andati a vedere il dry port qui alle spalle del porto. Però, insomma, voglio dire, ferrovia ce n'è poca, se non quasi nulla, tutto viaggia su gomma. E invece questo grande progetto dovrebbe probabilmente far diventare l'Algeria veramente la porta dell'Africa arrivando dal Mediterraneo. Questa è l'aspirazione dell'Algeria con la realizzazione di questo grande porto di acque profonde a Cherchelle, che è una località che si trova a circa 100 chilometri da Algeri ad ovest di Algeri, ed è un porto che in realtà è pensato come una porta d'ingresso all'Africa, perché si immagina di realizzare, di completare una strada che in gran parte già esiste, che attraversa tutta l'Algeria, è una grande, diciamo, connessione trans-aeriana attraverso il Niger e si spinge fino in Nigeria collegando, appunto, come le diceva, Algeri direttamente con l'Agos. Tra l'altro è anche, diciamo, un progetto visionario, perché non è solamente una strada, quindi un nastro d'asfalto, ma accanto a questa strada dovrebbe correre una ferrovia, dovrebbe essere costruito un gasdotto e anche un cavo a fibre ottiche. Quindi oggi questo progetto sembra abbastanza utopistico, se noi consideriamo la situazione logistica e anche di sicurezza di questa regione che dovrebbe essere attraversata da queste connessioni. Però, diciamo, da qui a un paio di decenni forse la situazione potrebbe essere completamente diversa. Quindi c'è questa capacità di immaginare il futuro che è fondamentale oggi per l'Africa ed è fondamentale per un paese come l'Algeria che vuole proiettarsi sempre di più verso il continente, verso l'Africa subsahariana. Io qui direi quasi, però affrontando molto brevemente, non abbiamo parlato prima, ma mi veniva in mente, mentre lei parlava anche di trasporto non solo di merci, ma anche trasporto pubblico. Anche questo è un settore dove probabilmente l'Algeria può migliorare moltissimo. Hanno a sua conoscenza dei progetti proprio per implementare quello che è il trasporto pubblico sia attraverso la gomma ma anche attraverso la ferrovia o addirittura la metro? Credo che la metro sia un progetto abbastanza vicino. No, ma diciamo che probabilmente lei ha visto quello che è un po' il punto debole, cioè il collegamento del porto secco con la rete nazionale. In realtà esiste una rete di infrastrutture autostradali, per esempio sta per essere completata, finita, mancano solo 80 chilometri. La grande autostrada Est-Ovest, realizzata in buona parte anche da imprese italiane, è una rete ferroviaria in grande sviluppo. Le nostre imprese, in particolare condotte a staldi, stanno operando nell'ovest del paese, verso il confine col Marocco, con delle opere che io ho avuto la fortuna di visitare personalmente, che sono ciclopiche. Abbiamo il più grande viadotto ferroviario dell'Africa, con un ponte sospeso a 120 metri. È un'opera assolutamente straordinaria, e c'è la volontà da parte algerina di sviluppare l'alta velocità. Come sa, nel vicino Marocco questa è già una realtà. Intanto qui si stanno ponendo le basi infrastrutturali, su un territorio molto accidentato, diciamo paragonabile al nostro appennino, con tutte le sfide e le difficoltà che pone. Anche nell'est del paese sono presenti aziende italiane, l'impresa, in particolare la CMC di Ravenna, sta realizzando i caselli autostradali per questa grande direttrice est-ovest, e la Rizzani De Ecker sta completando una delle diramazioni interne di questa autostrada. Quindi la nostra presenza qui è storica, è forte, e credo che l'Algeria avrà bisogno anche negli anni a venire di investire molto pesantemente nel settore delle infrastrutture, considerato la vastità della superficie, e anche considerata questa aspirazione a funzionare, come dicevamo prima, come hub tra il Mediterraneo e l'Africa subsahariana. Come chiusura, io, signor ambasciatore, la pregherei di sollecitare anche un pochino il mondo imprenditoriale italiano, perché non solo la portualità, che già per parola del Presidente Zeno D'Agostino, di Assoporti, piuttosto che di altri Presidenti di Torità di Sistema, dice, dobbiamo muoverci rapidamente, perché altrimenti i cinesi, come al solito, ci passano davanti. I cinesi ci sono passati davanti già parecchie volte, noi ne abbiamo fatto il reportaggio sulla Via della Seta e abbiamo visto cose, diciamo, che solo noi possiamo raccontare, come si dice. Ma effettivamente i cinesi qua ci sono in forze e non credo che aspettino che gli italiani si svegli, possiamo dirlo? Sì, la Cina ovviamente è molto presente in Algeria. Devo dire però che le nostre aziende si difendono molto bene perché la capacità realizzativa e di progettazione che hanno le imprese italiane non ancora uguali nel mondo. Ovviamente per le opel che richiedono l'immissione di capitali e anche risorse umane ingenti, i cinesi sono molto meglio attrezzati. Ma questo non impedisce che ci sia lo spazio per la presenza italiana. Faccio solo un piccolo esempio che è proprio di attualità in questi giorni perché si va verso l'inaugurazione della nuova grande moschea di Algeri che è realizzata su un progetto tedesco da maestranze cinesi ma all'interno di questa moschea vede svariate piccole imprese italiane al lavoro perché è un lavoro di qualità estremamente raffinato e delicato. Quindi diciamo che ci sono delle nicchie di qualità che non sono neanche tanto limitate quindi possono essere anche di notevole dimensione per l'intervento delle imprese italiane. E su questo in termini di creatività, in termini di capacità realizzativa credo che veramente siamo ancora molto competitivi. Bene, allora con questo messaggio sicuramente positivo e incoraggiante del seno ambasciatore Pasquale Ferrara chiudiamo la nostra intervista dall'ambasciata italiana ad Algeri. Grazie.